8 e mezza, io preferisco il mare a quest'ora allora, siamo venuti a Cala Brandinchi perché io direi che merita perché è veramente veramente uno spettacolo siamo soli qua, guardate siamo arrivati presto perché qui apre le 8 ci sono, c'è l'entrata e sarà un chilometro da qui e c'è questo mare le barchette che stanno qua, avranno dormito qua questa notte e allora abbiamo girato questa parte della Sardegna abbiamo fatto dire questo quarto alto verso est quindi diciamo la costa smeralda, la parte di qua di sante odoro e però ecco abbiamo riscelto Cala Brandinchi poi domani la Cinta perché sono le due che preferisco da queste parti mi piace le spiagge chilometriche, bianche, acqua bassa e quindi è uno spettacolo, è proprio bello poi c'è la pace la mattina sentite che mi metto un attimo in silenzio adesso mi faccio un bel bagno con la maschera l'acqua non è fredda oggi che è il 5 di giugno dico la data perché chiaramente questo video mi rimane su youtube quindi con l'azione lo vedete tra un anno il 5 di giugno è 2024 ancora la stagione non è iniziata perché dal 17 in poi di questo mese iniziano a prendere le prenotazioni per venire in spiaggia è una cosa che io detesto perché poi la gente prenota a prescindere anche se non ci viene ma prenotiamo intanto allora magari vai sull'applicazione e non trovi il posto poi vieni qui e magari parecchie hanno scelto di non andarci quindi diciamo che mi sa una stupidità da me onestamente prenotare la spiaggia è meglio che metti il biglietto quando sono a fine i biglietti basta non si entra più però ognuno se ci mettiamo a dire cose che non vanno io penso che ci vuole due ore e un quarto di video comunque signori io vi saluto perché oggi mi ricordo Cala Brandinchi che ve lo dico a fare